Ciao a tutti ragazzi, qui stiamo in vacanza, non c'ho niente da fare, quindi vloggo un pochino Adesso c'è il mio cugino che mi sta guardando malissimo, perché voleva di prendere il video, ma è troppo piccolo Lorenzo, stati zitto! Zitto tu, eh, niente, sono andato a far bagno, ecco perché i capelli diventi abbassati Eh, boh, internet qua fa schifo il cazzo, poi faccio vedere la stanza, eh, niente Sappiate che io sto a fare un castello di sabbia, quindi prendetevi la cacciolone Ma chi ti sente? Eh, niente, qua ci sto solo io perché la mia famiglia andrà a fare un bagno Eh, andrà a fare la scambagnata, dici Zitto, mi capisci il video Zitto tu Eh, vabbè, vloggo tutta la settimana, poi faccio vedere, ma comunque la stanza che c'ho va schifo Cioè, non mi piace vedere niente La mia è posta più bella della sua Eh, niente Eh, boh, poi ci sentiamo dopo, va Dalle mie mani tutte insabbiate, bella Eh, bella a tutti, sono io Lì volete 7.40 E stiamo tipo in un tunnel Cioè, stiamo passando, stiamo andando Di spiagge, stiamo andando a spiagge Perché mi sono sviluppo questo, posso aver fatto un vlog Cioè, è tipo una buca Cazzo, è un totto passaggio E là c'è stata un'altra, una favore altra Facciamo un attimo E poi mi incista nessuno, perché sennò Mi ingazza Diciamo che mi sto trovando abbastanza bene, solo che Cioè, ci sto solo io Mi sto annoia tantissimo Quindi, no Eh, niente Andiamo a quest'altro totto passaggio Cioè Ok Siamo uscita con due persone a fare qualcosa Oh No, non c'è nessuno, guarda, guarda, guarda Devo pure abbassare Oh, mamma mia Ragazzi, alle esplorazioni Che sono? Mi sono andato a mezzo a mezz'nottere qualcosa Perché è abbastanza Svegliato questa latina Presto, poi mi sono diventata E poi mi sono risvegliato Non so se si vede, non è andata anza Vamo una bicicletta a casa Che adesso da scippo Non so, così Guardate, una sabbia tutta Fatta bene Bastano i bimbi vinghia Che la distruggono Guardate Bella No, va bene ragazzi Troppa noia, voglio un po' di compania Quindi scrivo ai mi piace Siamo su youtube Ok, non fa niente Non faccio un cazzo Comunque dovete lasciare lo stesso mi piace a questo video Perché... Perché si Lo dico io Quindi dovete lasciare il video E il nome qua c'è scritto Mi ha dato l'accesso non gambeggiatori Ma questi cazzo perché qui ci sono Mamma mia, io voglio un gambeggio Ma non è un gambeggio, ci so C'è una stanza quindi che cazzo gambeggio Ma po' Si intende così Non fa il video di scritte ma Vabbè Cazzo mene Vabbè Ci si risente Non più o meno se mi vedo Ma a volte se Ci sono i giocattoli tattici Ci sono i giocattoli tattici Il grupe fendos così a caso E niente Dopo vado in acqua vi faccio vedere qualcosa Cosa attento che non ti bagni la webcam E boh Si bagna su cazzo E niente Allora ragazzi Questa è la mia stanza che Praticamente non ci sta una presa C'è 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 solo una sotto sto letto Ma è impossibile prenderla E la sto condivendendo con mia sorella Solo che per l'occasione Si è messa sotto le coperte Perché non la voglio Non voglio che si vede Quindi Ma perché mi scelto non esce Ah boh Quindi questo è il spazio suo Io l'unica cosa che mi so portare Da sto borsellino Perché non me lo metto Perché non se lo metto C'è forse si Qualche volta me lo metto Però non si deve mettere Questo è un armadio Vediamo che ci sono Un armadio O meglio dei vestiti Perché non mi piega nessuno Guarda Guarda come si muove sto cosa Sto mona Guarda che cazzo si fa Quest'altra c'hanno due valigie Poi queste sono le mie piedi Qua questo mi sembra un botta scatti Vediamo eh Oh botta scatti Ah boh questo è il giubbino figo mio Eeeh La finestra E poi il resto della casa Non so se lo faccio vedere Ma bezzo di si Qua non ci sta nessuno E da una persona Che sta guardando di nascosto Ma Si sente figa Quando non lo è E ci trovo bella Ragazzi ho trovato l'unica presa Che sta Dio dietro al letto E ci trovo metto Un po' di musica qua e E raga buongiorno Se vorrebbe Ve lo stesso di agito Ho detto vi faccio vedere Dico andiamo in acqua Vi faccio vedere la stanza Ma ancora non ci sia riuscito A fare il video Perché c'è nemmeno qualcuno Che non c'è 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 nemmeno gente E non ci riesco a farlo Soprattutto in casa mia E quindi No Ancora non l'ho fatto Vabbè Siamo al secondo giorno Io già mi so bezzardo Sento Vabbè Non penso che si vede il video Comunque Boh Non mi riesco a dormire qua Non mi riesco a dormire qua Tipo vado a dormire mezzanotte Mi sveglio alle 6 E 5 Ci si sente Tipo I vulcano I live Tipo Si stanno muovendo tutto Questa è la postazione mia Perché ci sta vivendo Mi sta fermando la testa Quindi mi sono messo qua Solo che Ah Fa male E ragazzi Siamo tipo a metà settimana Siamo a mercoledì Cioè Poi di meno della metà E ragà Non ho mai visto cose del genere Penso che tipo Non so che è Comunque Guarda tipo Accendi l'acqua Fa così Che figo Che figata Guarda ci sta fuori E ragà La situazione sta decine Che cazzo è Perché Non me ne vado No vabbè Vado 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 Tutto normale Vado Vado È tipo Magnum Time Che buono Come ogni giorno Vi faccio il punto della situazione E Quello di oggi Non è cambiato un cazzo Anzi sì È giovedì Quindi Manca poco E me ne vado Si comincia a fare vita Si comincia a fare tutto La depressione mi si è passata Cioè diciamo Perché mi sono abituato ormai E intanto Una cosa più Sapete qual è? Che c'ho Un corso che si mette solo Quell'alpino Lo sly Sly Non so Ma cazzo Quindi A me non mi spacco la schiena Perché mi dà fastidio Ma no C'era qualche bambino Che butta la sabbia E non ha fatto un cazzo Quindi Niente Mi sono guardato sempre Tutti benissimo Perché Non capiscono un cazzo Quello che sto a fare Perché siamo in Italia E niente Ci si sente E buongiorno a tutti Mi ditevo che Facevo molti 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 Più video Ma qui Non c'è un cazzo Forse perché è fine stagione Boh Ma comunque Non c'è un cazzo E E Quindi Che fare Mi prendono a casa Mi prendono a casa Si inizia con il video Si inizia con tutto Finito da Windows Qui non prendo un cazzo Sono fuori dal mondo Fuori dal mondo E quindi Niente Sto vlog E' diversissimo Non vabbè Avevo fatto Giusto delle cose E poi Tornare in acqua Perché Non avevo mai l'occasione E ora vedo se ci fossero adesso Perché Prima ieri Ero ammossissimo Se tipo Ci andavi un po' Dico La pupa non c'era Quindi Non ci sono andato Cioè Mi sono andato a far bagno Ma Cioè Non mi potevo tutta l'acqua Però se no si bagnava Quindi Questo E poi Ci si sente